Ehi Elena, sono tornata! Si è solo presa una cotta, non durerà. Le cotte, se permetti, le prendo io che ho 17 anni. Quella è demenza senile. Ti porti anche lui a Dubai? Se ho qualcosa che non devo sapere, hai dei segreti per me? Sei sicuro di non essere tu a volermi lasciare? Che succede? Prima o poi finirei male con i tuoi giochetti. Solo perché amo sorprenderti. Oh no!